ciao a tutti oggi facciamo un giro ad aranesi bike center di como andiamo a vedere a che punto è la mia bicicletta dai entriamo ciao ciao max allora questa è pronta amici è pronta diego ed è perfetta per la tua avventura adesso max ci spiegherà come si ripara una catena nel caso mi si rompa quando sarò da solo nella giungla andiamo a vedere dai normalmente una catena rotta si presenta così per ripararla abbiamo bisogno primo di uno smaglia catene secondo di una falsa maglia standard in questo caso 9 velocità la prima cosa da fare è togliere la maglia rotta dalla catena inseriamo il nostro smaglia catene sfiliamo il perno che ora a questo punto prendiamo la nostra falsa maglia inseriamo metà in un lato metà nell'altro e raggiungiamo a questo punto la catena è riparata vai grazie max per averci spiegato come si ripara una catena speriamo solo che non mi succeda quando sarò solo nella giungla ci ho forato un regalo perché te lo meriti aspetta vediamo se ti piace sei un matto diego vai vai grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille